Questo nuovo anno si presenta con una rivoluzione nella giunta di centrosinistra che governa la città di Alessandria, rivoluzione che secondo molti era ampiamente annunciata. Molto probabilmente sarà sostituito il vice sindaco, quindi Marica Barrera, l'assessore al commercio Gianni Berrone e anche l'assessore alla pubblica istituzione Marina Cornara. Per il momento sono tre, ma potrebbero facilmente diventare quattro o cinque quelli coinvolti in questo cambio. A differenza di quanto avviene in una partita di calcio, questo numero di sostituzioni non avviene per mancanza di risultati di chi oggi ha in carico quelle deleghe, quindi per migliorare la squadra, ma secondo molti è un riassestamento dovuto a motivi meramente politici richiesti dai partiti che hanno portato alla vittoria dell'attuale sindaco e di tutto il centrosinistra. Certo, gli assessori coinvolti non sapevano nulla fino a pochi giorni fa, anche se le indiscrezioni erano state fatte trapelare già più di un mese fa. Noi oltre un mese fa avevamo dato notizia che ci sarebbe stato un movimento tellurico all'interno della Giunta per l'ingresso di Giovanni Barosini, che non si accontenta più del posto di Presidente del Consiglio, ma vuole un assessorato molto più importante e di grande visibilità. E molto probabilmente otterrà la carica di Vice Sindaco in sostituzione di Marica Barrera, che sarà sacrificata nonostante goda di un alto indice di gradimento in città. Non tutti sono però d'accordo con questo rimpasto. Proprio oggi c'è un incontro non facile, decisivo, tra il sindaco Buonante ed il Movimento 5 Stelle. Da quello che si senta Palazzo Rosso e 5 Stelle non sono per nulla convinti che questo sia un cambio giustificato, anche perché l'assessorato, la delega pesante che reclama Barosini, andrebbe a toccare proprio i 5 Stelle. Non sappiamo se i lavori pubblici oppure andrà all'urbanistica, che attualmente è in carico il sindaco Buonante. E comunque, anche tra i molti consiglieri del PD, una sorta di paralisi per il passaggio delle consegne farebbe rallentare tutte le operazioni messe in piedi in questi mesi dagli ex assessori. Ad esempio, nel commercio c'era nel programma molte cose cominciate da Berrone e che adesso potrebbero subire un rallentamento. Dicevamo, al centro di questa cronaca di un rimpasto annunciato, c'è l'ingresso in giunta dell'esponente Giovanni Barosini, che possiamo spiegare perché sì, era stato eletto con azione, non faceva parte del gruppo allargato del centro-sinistra, ma il partito di calenda, che aveva ottenuto un eccellente risultato elettorale, oggi presenta il conto, così come avevano previsto i più maliziosi. Poche ore e si vedrà. Restiamo ad Alessandria, dove questa mattina verso le 10 si è verificato in via Gramsci un principio di incendio. Dal frigorifero di casa di un anziano avrebbe causato uno scoppio, sentito anche dai vicini di casa, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Molto fumo, fortunatamente nessun ferito, solo l'uomo che viveva da tempo solo in quell'appartamento è stato portato via in ambulanza con un lieve principio di intossicazione. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, non hanno neppure usato l'autopompa perché le fiamme che si erano sviluppate all'interno dell'alloggio, che si trova in un cortile dentro a via Gramsci, erano state in qualche modo spente dall'anziano che viveva nell'appartamento. I vicini di casa sono stati fatti sgomberare per sicurezza, ma dopo circa un'ora sono potuti rientrare nelle loro case, sul posto anche i sanitari del 118.